Bella raga, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale Oggi vi porto l'after patch per fare il beige della IAA senza attività, senza niente ragazzi Quindi come requisiti creare un elenco partite con una gara stante che sia questa ragazzi Blazer ad acqua, beach party A questo punto una volta che abbiamo creato l'elenco partite con questa gara quindi deve esserci ne solo una all'interno E l'abbiamo chiamato IAA così lo riconosciamo subito Possiamo iniziare con il beige Ci dirigiamo qua dal cerchio giallo da ULP ragazzi Quindi aprite la mappa, guardate dov'è la posizione, è al centro mappa Vi mettete sul bordo dell'attività e a questo punto apriamo il menu di pausa Una volta aperto il menu di pausa andiamo su elenchi partite, andiamo sui nostri elenchi partite ragazzi E andiamo su quello che abbiamo appena creato che si chiama IAA A questo punto una volta che siamo su questa schermata clicchiamo A o X se giocate da PS E quando siamo in questa schermata nera iniziamo a spammare freccia destra e A o freccia destra e X se giocate da PS E li spammate finché raga non vi trovate all'interno di questa attività A questo punto se avete una schermata glitchata di sottofondo potete fare conferma impostazioni e gioca Accettate l'allerta ragazzi e a questo punto spawneremo in questa schermata Facciamo pronto a giocare, come vedete c'è scritto ULP spionaggio E vi ricordo questo glitch funziona solo ragazzi con la prima missione Quindi se siete già andati avanti dovete finirlo e una volta che l'avete finito dovete ritornare qua Adesso ragazzi dovete giurare fedeltà e iscrivervi a questo canale Lasciare un like se volete essere aggiornati sui miglior glitch di GTA 5 online ragazzi Quindi a questo punto una volta spawnati nell'attività cosa facciamo? Ci dirigiamo dal nostro appartamento Dovete ricordarvi dove sta perché non lo vedrete nella mappa E una volta che l'avete trovato raga Semplicemente entrate dentro il vostro appartamento Andate nel vostro guardaroba e vi salvate l'outfit ragazzi Intanto guardate cosa è successo Non mi è mai successa una cosa del genere raga Di trovare così a cazzo di minchia un cavallo dentro casa Comunque una volta salvato l'outfit potete tranquillamente quittare l'attività E una volta che poi spawneremo nella lobby in free mode ragazzi Andiamo a selezionare l'outfit e avremo il nostro beige Quindi lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix Supportate il canale, abbonatevi se sia piacere Se volete imparare a fare il beef in una maniera un po' più tranquilla E se ragazzi vi serve un account non esitate a contattarmi Alla prossima